E' come una scossa che mi passa attraverso la pelle, attraverso gli occhi. E questo è il potere degli oggetti. Ti fanno tornare indietro, nel passato. Chi porta la fascia è quello che ha il coraggio di guidare gli altri. Ma soprattutto, è in grado di guidare se stesso. Oggi in questa casa è successa una cosa molto bella. La buccia è un'ottima serva, ma una pessima patroccia. E si canderà tutto secondo i piani. All'inizio, la bugia sembra la soluzione più facile, più adatta, ma non è mai così. Beh, almeno non abbiamo cattivi segreti. Tutti siamo stati bambini. Ma tu non guardare adesso. Pensa quando sarai bambino. A presto! Grazie a tutti